Su richiesta della Procura di Catania, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno sottoposto a sequestro conti correnti e beni immobili per un controvalore di circa 7 milioni di euro di proprietà di 9 soggetti indagati per utilizzo ed emissioni di fatture false che hanno consentito agli stessi di realizzare un'evasione fiscale milionaria. Tra i destinatari della misura cautelare figurano Barbara Prezzavento e Consolato Pellegrino nella loro qualità di amministratori di imprese che gestivano un supermercato a marchio Eurospin destinatari di un provvedimento di sequestro di oltre 2 milioni di euro pari alle imposte vase. Stefano Compagnini, ex dipendente del Comune di Catania, risultava essere il reale amministratore di una serie di imprese intestate a prestannomi che emettevano fatture per operazioni inesistenti. Le indagini condotte alle fiamme gialle hanno dunque fatto emergere la figura centrale dell'allora dipendente pubblico Compagnini, destinatari di un decreto di sequestro di oltre 2 milioni e mezzo di euro. Altre imprese avevano beneficiato delle fatture emesse dal reticolo di società alluriconducibili, tra le quali l'azienda di stoccaggio di rifiuti Sicula Trasporti, che utilizzava fatture false per oltre 1 milione e 200 mila euro e vedendo imposte per oltre 730 mila euro. Il legale rappresentante Giuseppe Leonardi è destinatario di un sequestro di importo pari a quello delle imposte vase. Le investigazioni di polizia economico-finanziaria, durate più di un anno, hanno consentito di portare alla luce un sofisticato sistema di evasione basato sulla produzione di documentazione giustificativa di odori totalmente falsa. In sostanza veniva registrato come alcune imprese avevano stipulato dei falsi contratti di locazione per un capannone di loro proprietà mai utilizzato. Il sequestro operato dai militari del nucleo di polizia tributaria trae origine da una verifica fiscale avviata nei confronti di una delle due imprese che gestivano un supermercato. Va segnalato che la catena di supermercati Eurospin e la società che gestisce il marchio Eurospin Sicilia è estraneo ai fatti.